Tra legali, cittadini, sindaci e una delegazione del presidio di Campochiaro nato per contrastare la realizzazione delle due centrali a biomasse in agro di Campochiaro e San Polo in tanti hanno atteso al terzo piano il pronunciamento dei giudici del Tribunale Amministrativo chiamati ad esprimersi sui ricorsi presentati dalle società Civitas e di Zio Costruzioni ad annunciare il rinvio al prossimo 9 luglio l'avvocato Umberto Colalillo tutto rinviato dunque al periodo estivo come precisato dal legale Pino Ruta Oggi ci stanno tre vicende, i ricorsi originali nostri contro i provvedimenti di autorizzazione poi i ricorsi delle società contro i provvedimenti di revoca e sembrerebbe, sono in itinere i ricorsi delle società contro i provvedimenti di annullamento che in quanto tali stemperano anche i rischi di risarcimento perché in realtà rimuovono i provvedimenti fin dall'origine in quanto li ritengono illegittimi e quindi contralegge e pertanto insufficiente a poter costituire situazioni di risarcimento del danno su questa complessa vicenda il TAR ha privilegiato una trattazione diciamo congiunta o quantomeno contestuale nell'udienza del 9 luglio cosa che sembra una soluzione chiaramente sia rispettosa dei principi di economia processuale e quindi di concentrazione sia peraltro di trattazione più analitica di quella che è una complessa circostanza o vicenda che deve in qualche modo avere uno sbocco definitivo Prima però dovrà esprimersi anche il Consiglio di Stato A seguire con attenzione tutta la vicenda dalle battaglie sul campo con i cittadini nella zona del Matese in presidio per molti giorni all'annullamento fino alle vicende giudiziarie anche il sindaco di Campochiaro Antonio Carlone A giugno ci sarà questo pronunciamento del Consiglio di Stato noi ci muoveremo prima nel senso che già dalla prossima settimana ci organizzeremo per chiedere l'annullamento anche di quell'atto visto che sono state accolte quelle che erano le nostre tesi dall'Avvocato Auffiero e quindi inizieremo prossimamente ad organizzarci per arrivare al Consiglio di Stato con un'autorizzazione annullata dalla Regione Molise a cura di Stato